La partita passa in secondo piano perché il Foggia che perde in malo modo con Latina costa il posto a Pavone. Un'oretta dopo la gara il club con un comunicato stampa ha ufficializzato l'esonero del direttore sportivo. Un inaspettato terremoto che potrebbe ripercuotersi anche sulle scelte del tecnico Zeman, da sempre legato al DS. Le prossime ore faranno chiarezza su quanto accadrà anche perché si entra nell'ultima settimana di mercato. A distanza di un mese torna intanto il campionato di Cie per il Foggia. C'è il Latina allo Zaccheria con Zeman che fa i conti con l'emergenza. Tra Covid, squalificati e infortunati, il Boemo è costretto a stravolgere l'undici base. Chiavi da Pleia, Gallo con Rocca a fare il terzino destro e Rizzo Pinna la mezzala in attacco. Tocca Tuzzo a fiancare Ferrante e Curcio. Partono dalla panchina i nuovi arrivati Rizzo e Vitali. La serata del Foggia è complicata e lo si intuisce sin dalle primissime battute. Dopo appena due minuti Sanè arriva tu per tu con Alastra ma il portiere rosso-nero mette in angolo. Il Foggia ha l'occasione per passare all'undicesimo. Rizzo Pinna se ne va in percussione ma si fa parare la conclusione da Cardinali. Tre minuti dopo passa il Latina. Quattordicesimo la retroguardia rosso-nera Balbetta e a margine di un'azione confusa Nicolao mette dentro con Di Pasquale che prova senza riuscirci il salvataggio sulla linea. Prova a scuotersi il Foggia. Curcio al diciannovesimo in rovesciata guadagna gli applausi ma il tentativo termina fuori dallo specchio. Il Latina si prova addirittura dai 50 metri con Carissoni che costringe Alastra ad alzare in angolo. Al trentanovesimo però gli ospiti raddoppiano. Calcio di punizione dal limite, botta di Esposito e Alastra e nuovamente battuto per il 2-0 della formazione laziale. In avvio di ripresa il Latina va vicinissimo al Tris ma al cinquantesimo Alastra para su Jefferson e Nicoletti salva sulla linea sul tentativo a botta sicura di Ercolano. È solo questione di tempo. Cinquantacinquesimo ecco il Tris. La giocata di Sanè d'applausi si libera della marcatura di Di Pasquale e in sacca per il 3-0. Gara virtualmente chiusa per il Foggia. C'è solo l'illusione di riaprirla. Al cinquantanovesimo fallo in area su Garofalo. Calcio di rigore. Sul dischetto va Curcio che non sbaglia e accorcia le distanze. Al sessantacinquesimo il Foggia ci riprova con una conclusione al volo di Curcio che termina alta e al settantunesimo e il nuovo entrato Vitali a sciupare da ottima posizione su servizio di un altro subentrato Merola. Poco prima del recupero il Latina va vicino al poker ma Sanè perde l'attimo e si fa anticipare da Lastra. Piovono fischi sullo zaccheria prima del terremoto e della decisione di Canonico di dare il ben servito a Pavone.